eccoci benvenuti nella sessione di francesca che si apre con un corso di inquadrature tutorial come fare un inquadratura senza inquadrare solo soffitto 5 4 3 2 e 1 quanto ci ha alzato le vibrazioni questa risata iniziale in proporzione un po quanta già ce ne avevamo però tipo francesca era 15 adesso è a 35 ci dà l'autorizzazione la da molto chiara perché entrata come se fosse entrata in scena ok ha preso i suoi occhiali e li ha lanciati e ha detto io adesso voglio che vederci chiaro voglio vedere senza filtri moica guarda io l'ho vista su una barca proprio su una barca con una cerata gialla il mare in tempesta ed è come se sull'isola che sta lì davanti ci fosse tutta una serie di cose che lei vuole e per il momento non riesce a raggiungerle a causa di questa tempesta comunque tra uno schizzo e l'altro perché il mare appunto è molto mosso dice di sì il mare ne pesta e forse forse non basta quanto ti piace monica fare la sessione doppia con elena quanto ti diverti com'è la sensazione quando tu dice una cosa lei ne vede una simile che la va a completare e viceversa molto potente è espansivo direi come cosa stessa domanda era quasi come se monica riuscisse a vedere quello che vedo io nello stesso modo ma dall'altra prospettiva e quindi finisce come se finisse la mia frase è come se quello che state vedendo è un oggetto su un tavolo ma tu sei su un lato del tavolo quadrato e lei sul lato accanto di fronte anche di fronte volendo su un lato diverso quindi l'oggetto lo stesso ma vedete due prospettive differenti e concomitanti quindi in qualche modo lei ti aiuta a capire di più che l'oggetto che fai conto è una statua di un gatto e tu stai vedendo dal frontale dietro a un pelo fatto in un modo che non immagini resti e che monica ti descrive la coda è lunga e corta e folta e magra e mozza bella questa immagine vibrazione di francesca terza sessione sessione decisiva elena e poi monica smonica solo serie di cose diverse vagli elena ora è a 48 miliardi consapevolezza 167 anima 51 vite 1368 quanto monica se vuoi interviene al cervello sempre lena 9.1 suscettibilità ipnotica 40 per cento e francesca può farne una diretta 72 quindi già pronta direi se dovesse dare un voto da 1 a 10 come si faceva una volta ai valori di francesca dall 8 al 9 non glielo toglie nessuno quindi queste sono le sessioni che mi piacciono tanto quanto quelle disastrose perché in qualche modo il lavoro di di cesellamento è sempre interessante e anche molto difficile che in qualche modo potremmo anche chiuderla qui e francesca è a posto da sola facciamo così francesca va bene ci salutiamo no auguri buona giornata entità ci sono elena e teri che arriva questo boh questa presenza che è tutto verde potrebbe sembrare boh un animale non so neanche dirti cosa la consistenza potrebbe essere tipo un anfibio ok però è verde ed è fatto appunto di domanda e si muove saltando primo secondo il massimo universo poi c'è un uomo del tempo che però appare molto sottile quindi è quasi come se sapesse che se fosse normale francesca lo vedrebbe ancora prima che potesse interferirla essendo sottile presume di non essere intercettato e poi c'è come se ci fosse però non è proprio l'interferenza ma come se ci fosse ogni tanto un ricordo dal secondo universo quasi come se arrivasse un suono poi va guarda mi ricollega quest'ultima frase un suono poi va è come se arrivasse una comunicazione tra virgolette da altri da altri galassie chiamiamola un extraterrestre e questo suono che viene va è come dire noi sì che sappiamo apprezzarti tu non sei di lì sei da un'altra parte ma è appunto un suono che viene e che va l'essere di lei non attecchisce più dalla tua prospettiva l'essere verde lo vedi come sì secondo me potrebbe anche essere questa la materializzazione di questa voce qui che secondo me ha come un'origine aliena esterna perché lei comunque per molti aspetti si sente anche aliena un uomo del tempo si sottiletta è una si sottiletta quindi sul trasparente perché poi in realtà gli uomini del tempo giocano su due colori bianco e nero no però sottile sottile che sembra più grigio quasi non ho paura di parlare con francesca è perché lei sa benissimo tutto questo discorso della stratificazione andare in profondità spalle larghe quindi sì non ne avrà male se gli dico che io ne vedo tre ma è un lavoro veramente molto profondo è parlando di queste tre la prima è invisibilità lei fondamentalmente è invisibile per chi l'ha creata ed è uno dei più grandi dolori e tormenti che ci possano essere no? chi ti crea ti dovrebbe vedere i genitori invece non la vedono minimamente e lei a sua volta trasforma questa invisibilità anche nel resto della sua vita quasi tra virgolette camuffandosi mi fa vedere come se andasse in giro sempre con un giornale attaccato al viso quasi per non farsi riconoscere per dissimulare per non essere completamente se stessa siccome non sono visibili ai miei genitori non voglio essere visibile non posso anche non posso livello? penso intorno al 4 perché è la più profonda successiva con livello se puoi allora porta qui sai come si direbbe a un cane no? ok non è assolutamente un cane però è proprio come se accusasse di mala voglia gli ordini i comandi che vengono dati dall'esterno e a cui lei a volte contro voglia deve obbedire anche se dentro di sé non vorrebbe e anche se vorrebbe al massimo personalizzare questa imposizione data cerca di rielaborarla in tutti i modi ma c'è scusa Francesca il viso lo vuoi lasciare nella registrazione? c'è nella pubblicazione no ok non era per sapere che sta facendo dei grandi sì con la testa immaginate che ci sia una signora che fa sì con la testa tutta persa Monica ah scusami il livello del porta qui 3 e l'altra mi fa vedere pedalando a vuoto è come se lei fosse potenzialmente un'ottima ciclista però la sua bicicletta l'ha impostata male con il rapporto sbagliato quindi in particolar modo adesso la vedo che sta pedalando tantissimissimo perché ha messo il rapporto sbagliato sta facendo tanta fatica quindi sta sprecando tanta energia eh già livello? e qua siamo ancora 3 Elena, le mentali sì vedo le stesse di Monica l'ultima pedalando a vuoto io la vedo come con il nome di figlio mio nel senso che è come se vedessi che Monica vede Francesca vede al posto di suo figlio tipo una casella grigia che lei colora di grigio pensando che tutto quello che fa non rispecchi suo figlio e quindi quasi da non vederlo da non riconoscere da non capire cos'è questo pedalare a vuoto che vedete Monica è come se lei facesse non si sentisse una mamma che vibra con le vibrazioni di suo figlio ecco che sono più alto o più basse? no è proprio come se il termine sbagliato non risuona non spiega quello che intendo però è come se non coincide come se lei sentisse che a volte lei mamma Francesca non coincide con la mamma che andrebbe bene per suo figlio ok ci sono impianti Elena vedo solo questo impianto mentale che è come se fosse un filo di rame che gira tutto intorno alla testa di Francesca ed è quello che le crea queste entità mentali che le creano o confusione o comunque che le creano delle cose che non sono reali non riesce a vedere la realtà come come è veramente a causa di questo filo tutto intorno come se fosse un filo spinato che non la fa muovere oltre a quello spazio di ricorda un po' un filo di lucine di Natale ma anche sì Monica mi sembra anche genitali come se la sessualità forse essere conquistata nel corso degli anni perché è molto alternata a volte con delle imposizioni sensi di colpa di vieti limiti eccetera è come se fosse rimasto un po' un rettaggio e a volte invece voglia di libertà estrema comunque non un autentico equilibrio ancora ok come si chiama in questo progetto di oggi mi dispiace un sacco dirlo perché per me è l'esatto opposto però proprio questa è la prova di ciò che uno percepisce profondamente può non avere una risposta esterna ed è bassa qualità lei invece è una donna di altissimo livello ha un'ottima professione ha un'ottima posizione però è come se queste sentirsi diciamo così sola non considerata e non voluta fosse rimasto non so come dirti addosso a lei e quindi è come se lei non si sentisse completamente e pienamente non so come dirti degna di valore e quindi a volte nella sua vita introduce cose di bassa qualità il progetto Elena trasparenza offuscata è proprio quasi come se le fosse in una sfera che dovrebbe essere trasparente in realtà se lei guarda oltre la sfera diventa tutto offuscato quasi come proprio come se si chiudessero fossero tante celle che se lei guarda nel momento in cui guarda diventano tutte grigie si chiudono ok cinema subito il figlio certo con la sua maglia con sopra un atomo nulla è un caso varie circostanze hanno voluto che lo vedessimo durante le posizioni dei punti allora mi fa vedere continuo a farmi vedere questa immagine di francesca della pelle di francesca quasi come se fosse per lei un filtro fondamentale la pelle sua la pelle sua propria stessi mentre entra il figlio il figlio si siede in prima fila guarda la mamma in maniera era molto adorante proprio con una grande stima e rispetto e questo suo atomo si collega direttamente a ogni cellula della pelle della mamma monica quasi come se lui volesse si sentisse un po' il carico di animica mente di portare nella mamma un utilizzo diverso del filtro pelle po' difficile da spiegare però monica mi è arrivato nice mi è venuto qualcosa tipo riguardante il caos la stella le galassie proprio la possibilità da parte di francesca che non lo so perché mi faccio uno sforzo incredibile per non chiamarla marina è francesca e come la possibilità proprio di comprendere questi vortici dell'esistenza creata proprio su vari strati su vari livelli di consapevolezza quanto mi diverto nella metafisica chi è marina chiamala viene con una pietra di acqua marina giustamente marina mi ricorda che all'inizio anche tu hai parlato siamo tutti sulla stessa barca e poi che lei appunto si è presentata su una barca con il mare in tempesta come se il mare potesse essere per lei una grande incognita una grande sfida il grande inconscio che lei va a esplorare ogni volta che lavora bella l'acqua marina è bellissima quindi è una francesca di un'altra linea temporale o una vita precedente è di un'altra linea temporale ed è come proprio una grande ispirazione per francesca perché lì è come se francesca lì marina ci fosse proprio una vera sicurezza alla radice che in francesca non c'è bene elena creiamo la questa barca ci mettiamo tutti e quattro sopra abbiamo tutti e quattro questo destino non veniamo riconosciuti dai nostri genitori si può dire ho violato la vostra privacy la mente il il naviglio il battello ci sono io blu è un sottomarino giallo talvolta si quando sprofondiamo inabissiamo in questa sensazione di non essere visti apprezzati sia quando vogliamo andare in profondità e liberarci di questa cosa e valutarla anche come un valore come un vantaggio perché lo è è giallo sottomarino yellow summer anche se non mi vorrei legare molto ai quattro massoni si noi possiamo trasformare ogni cosa certo è il nostro sottomarino due oblò a destra due oblò a sinistra lo guidiamo tutti e quattro certo Elena chi è Marina chiamala come la vedi mi fa vedere che a volte è una sirena quindi che riesce anche a superare le onde del mare in tempesta passando sotto quindi passando sott'acqua nuotando sott'acqua marina vi fa vedere che a volte è riuscita andando sott'acqua a arrivare sulla sulla costa dell'isola dove ci sono tutte le cose che lei vorrebbe raggiungere ok e prenderne qualche pezzo e qualche spunto e portarlo in quello che fa se li e questo fa sì che il mare in tempesta si calmi un po' e se queste cose che le vuole raggiungere fossero dei tesori sul fondo marino dentro delle navi affondate andiamo alla ricerca del tesori quali sono i tesori di marina francesca quelli che non ho ancora c'è una profonda complicità col partner come se lei la volesse strutturata in maniera diversa l'altra è benessere lavorativo nel senso di stare bene quando è nei luoghi lavorativi invece purtroppo si sente sempre molto osservata senza essere vista veramente per quello che è quindi criticata giudicata ma non vista per lei chi è davvero quindi il benessere lavorativo in questo senso e poi è come se cercasse la sua fioritura come se sentisse che in realtà lei ha delle potenzialità di sbocciare in una certa maniera ma in questo momento è chiuso il fiore quasi incollato nei petali tre tesori in realtà ce ne sono altri però è come se tanto quelli non potessero dipendere da lei perché come qualcosa riguardante gli altri ok ce ne sono i piccoli e i grandi questi sono quelli più importanti quelli su cui lei può lavorare e quindi quelli che lei può trovare elena come li vedi tre tesori mi fa vedere anche questa cosa creatività lavorativa soprattutto nel suo lavoro individuale quindi forse più quando lei ha fa quella parte di lavoro dove da sola con 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 un'altra persona e si aggancia però a tutta la parte di del benessere lavorativo no è come se lei potesse avesse questa questo tesoro di poter allenarsi e esercitarsi nell'individuale nella sua creatività quando agisce a livello individuale per poter poi essere sicura e stare nel benessere quando invece lavora in ambienti più grandi questi tre tesori è come se fossero sei tipo tipo no i bauli dei tesori ma nel momento in cui si apre diventa tipo una conchiglia a 3 aperto tre parti no sì questi due laterali un po più totteggianti e quella affrontarla un po più con questa forma si esatto creano proprio questa questa conchiglia perfetta questi tre su questi tre suoi tesori che risplende di colore madre perla sono molto luminose tre tesori sono si hanno una luce da quando l'abbiamo chiamati quasi illuminano il fondale di esatto fondissimo di un lago proprio quell'immagine di quasi come se fossero a galla quasi come se l'oscurità degli abissi non potesse agire di nessuna importanza ma faccio la domanda paralisi notturna elena o tentata paralisi tentativo è come se lei insieme alla sua ps avessero detto proviamo per vedere se sono in grado di fermarla subito ma quasi a livello conscio cioè il check up periodico ma è allora lo stesso discorso monica lei un po si auto boicotta con questa paralisi notturna che viene dalle interferenze che sono state decise e volute da lei con la macchina che ha avuto dei problemi poco fa la volta scorsa altri piccoli problemi prima della sessione non vengono dalle interferenze brutte e cattive verso le quali non possiamo fare niente ma solo da esclusivamente da lei autosabotaggio è come se lei si trovasse di fronte uno dei grandi dilemmi per lei quattro pane quotidiano lei che si occupa della mente e dell'anima ed è la ferita del non amato è come se lei fosse lì a guardarla questa ferita del non amato e quindi poi del non visto e questa ferita è come se non si rimarginasse mai e invece che espelle repusse espelle questi autosabotaggi che ogni volta hanno una forma differente l'auto sequestrata appunto come abbiamo detto il questo una specie di tentativo di abduction chiamiamola così e via dicendo perché è come se lei in questi questa sua viaggio in profondità proprio come se lei stessa fosse un palombaro questa sua capacità di esplorare gli strati della profondità dovesse andare oltre la psiche dovesse riuscire a mollare quelli che sono diciamo così i legami eterici per i genitori chiamiamoli nel cinema che lena papà e mamma si viene come se si rispecchiasse sempre questo meccanismo anche tra di loro quasi come se anche tra di loro non fossero sempre nel giudizio come difesa e quindi è mentre sono lì sono davanti in prima fila ma quasi neanche lì vedono francesca mi dispiace dirlo ma è proprio così non sono riescono non ce la fa non ce la fanno non è questa vita non so come dire è lo percorso eh sì come si chiama il percorso della mamma il progetto della mamma no vabbè sono fatti i suoi non lo diciamo monica vengono allora la cosa che mi ha colpito del palomadre un po con questo aspetto un po arcigno anche un po schifata però viene stai guardando tutto intorno un po così critica il padre viene rasentando i muri proprio come se fosse in un certo senso l'idea che mi dà che fosse con le spalle al muro nel senso proprio inchiodato alle responsabilità e poi proprio l'idea dell'inchiodato credo che questo derivi molto dalla sua matrice religiosa no la crocifissione eccetera quindi molto la responsabilità il carico sai anche quest'idea di sacrificio di serietà eccetera 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 monica il compagno attuale e l'ex padre del figlio l'ex non solo vedo fluttuare qua non so come mai non riesco a vedere come presenza che rimane dentro al cinema e invece l'attuale compagno è come se si stesse sforzando tanto quasi stesse sudando le tempi il sudore che li calcola giù dalle tempie ed è lì concentrato sì 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 allora l'attuale lo vedo sì prima fila è molto ilare perché è come se fosse abituato a tutte le sue le nuove invenzioni di francesca quindi quasi abituato a a doversi in pensa già che è come se si deve impegnare alla sua nuova invenzione sua nuova trovata però divertito perché sono sempre cose molto stravaganti per lui quelle che francesca le mostra e quindi è in prima fila attento a vedere qual è la nuova stravaganza di francesca monica fiamma non mi sembra ok chi vuole rispondere io dico solo una parola unghie allora mi mostra questa questo movimento questa dinamica come se le unghie dovessero rientrare nel corpo fare tipo questo passaggio sulle braccia e poi uscire attraverso i capelli ma però lo vedo come un movimento un po infinito perché la sua diciamo intenzione di far scaricare l'ultima 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 unghia no l'ultima cinevac sì ok parolosi si va bene l'ultimo cinevac ok farlo scaricare le unghie ha creato nel suo organismo questo meccanismo questo unica possibilità con la sua intenzione quindi come se dovessero rientrare le unghie e fare questo passaggio poi scaricare dai capelli così come ora è come se non fosse dovesse essere finito però sì al contrario dovrebbe scaricare tagliando le unghie basta ecco facciamo un passo indietro francesca ha fatto tre dosi monica le ha fatte anche marina no ok come vedi la presenza dopo tutti i lavori termini chimici con trattamenti integratori integra integrazioni e dopo tutto il lavoro di intento come vedi gli effetti del primo del numero uno gli effetti del primo proprio dissolti zero del secondo per due terzi dissolti del terzo il terzo che è quello che tra l'altro è come se lei non si ricordasse e io lo vedo ancora come in fase di lavorazione quindi resta un 90 per cento guarda adesso qua dovrei dire delle cose che non so neanche come dirle e allora diciamo che quando lei aveva queste unghie che non crescevano l'immagine che mi è arrivata è quella invece del classico diavolo con le unghie lunghe quasi come a creare una sorta di competizione lei è a volte appunto nella vita proprio vittima di questa competizione ok è come quindi se il diavolo avesse paragonato queste sue unghie lunghe alle sue corte e a farle vedere che quindi lui era migliore era più forte era più potente di lei e soprattutto questo legato alla terza e lei sta ancora non so come spiegando dialogando con allora a livello fisico con il sistema immunitario e a livello diciamo che però il sistema immunitario anche non è tanto solo fisico ok ha anche una componente spirituale ed animica e quindi sta proprio dialogando anche con la componente spirituale e animica del sistema immunitario e infatti il malore che è accusato è molto profondo che è quello all'anca no che è proprio insomma un'articolazione importante molto valore che sostiene esatto esatto quindi questo lavoro è in corso e e c'è chiaramente anche la necessità di sostenerlo con insomma dei prodotti esterni elena sì anche io la prima l'ho vista dissolta completamente la seconda come se ci fossero degli delle immagini sta come se fossero delle fotografie in alcune zone del corpo che hanno un po' di memoria ma sono statiche e anche sull'anca vedo che ci sono queste sulle anche ci sono queste due fotografie un po più spesse il terzo vedo proprio questo meccanese come c'è non si è dissolto ma come se lei l'avesse limitato a questo a questo cerchio in questo circuito è anche una nuova no e anche il mal di testa dovuti a questo e monica causa esoterica della maglietta del figlio riportante un atomo poteva essere una maglietta no logo poteva essere una maglietta rossa gialla verde di un'altra marca invece c'era il disegno di un atomo con tutto l'elettrone che va in giro sono gli strati di lettura della realtà come se mi mostrasse come una volta veniva concepito l'atomo e come mano a mano adesso in un'ottica di fisica quantistica viene concepito l'atomo ok quindi proprio questo cammino evolutivo che è poi l'evoluzione di francesca e che è proprio anche la predisposizione di questo ragazzo a fare velocemente le tappe che magari noi abbiamo impiegato più tempo a svolgere quindi anche a concepire l'atomo non come l'abbiamo studiato noi ma come essenzialmente un vortice di energia sì come un'altra cosa mi viene dire il suo esporsi su far su mostrarsi ok perché poi si è fatto vedere poi si è abbassato quasi come se quello fosse lui tutto ciò che dentro è a un certo ordine lo ripeto fuori cerco di ripeterlo fuori ricerco questo ordine fuori ma esponendosi si è come se si fosse sentito vulnerabile quindi poi si è abbassato quindi mi arriva proprio che è la sua espressione di del suo ordine ricercato nella nel mini nel micro ok e poi che cerca di riportare fuori soprattutto nelle relazioni anche quella sia la mamma sì ok una vita elena precedente di francesca la più importante che serve in questo momento analizzare c'è questo uomo intorno alla sessantina potrebbe essere con dei vestiti molto semplici tipo pelli di animali secondo me potrebbe essere intorno al 3 400 più o meno in questa stanza dove lui lavorava e aveva questo tipo un laboratorio dove faceva ricerca e vedo che come se mettesse dei cubi fatti di metallo però era un metallo strano diciamo come se non fosse tanto conosciuto perché molto c'è poteva quasi sembrare acciaio no però un po pesante e metteva questi cubi sempre più piccoli uno sopra l'altro e l'esperimento era creare questo campo magnetico che avrebbe utilizzato a livello energetico per qualcosa più a livello ambientale ecco quindi stava sperimentando facendo questo sperimento monica testa domanda è un cimitero mi mostra e lei era tipo un guardiano del cimitero come se vivesse meglio qui che nel mondo dei vivi si riuscisse a sentire più connesso più in armonia e fosse più facile la comunicazione ecco rispetto che con tutti quelli che stavano in vita un messaggio da parte di questa vita che è analizzato tu e lena quel campo magnetico che hai creato che sai creare in quella vita la non puoi ricreare nella relazione con le persone e è molto utile con le persone con cui lavori stessa domanda per te monica il confine tra i vivi e morti te lo stai ricordando e lo stai sperimentando va bene chiamiamo questo lo dico entrambi l'amico disincarnato mancato da poco tenerezza come un figlio fratello accudito e tipo che ricambiava con un amore esorbitante blu un amore blu non so che lena ciao cara amica dici ciao cara amica e l'abbracciaforte e poi le dice guarda sono entrato in tutte le porte mi mancano quelle due entra nel portale avrò che chiamiamo chi apriamo ci mancano due porte prima da esplorare quando le avrà esplorata vuoi sapere dentro quanto sì sì otto mesi monica sì sei otto mesi sì si lo promette sì è come se lui volesse in qualche modo ricordare o vivere in maniera a rielaborare la questione della libertà di scelta certo anche in parte attraverso francesca perché c'è qualcosa che nella sua vita aveva interferito con questo aspetto cosa la sua immobilità esatto come si può essere liberi di scegliere nonostante quello perché lui si era proposta questa sfida tra virgolette però nella sua vita non era davvero riuscito ad avere questa libertà di scelta chi dice c'era qualche c'era quasi che cosa le dice lui e c'è stata la libertà di amarci di volerci bene questo c'è stato e dice io non ho letto il libro in tutte le sue parti e fino all'ultima pagina e l'ultima parola adesso può infatti qual è l'ultima pagina e l'ultima parola cosa dice l'ultima parola a me dice via la carrozzella via le stampelle le stampelle poi in senso simbolico è verso quelle che sono per noi le stampelle quelli che sono gli appoggi che in realtà non ci servono e che non ci sono mai stati dice che c'è una o all'ultima è come se avesse letto fino alla c che un cerchio in mano chiuso e invece poi ce l'ho e anche con la gambetta e il punto quella è l'ultima lettera e la fine della pagina ok lo saluti lo salutiamo francesca iuco gli vuole lasciare un messaggio allora non so perché mi è arrivato l'uomo ragno come se in realtà la risolvessero in una maniera anche un po fumettistica e la capacità loro di gestirsi all'interno di questa ragnatela matrix proprio come se fossero due personaggi dei fumetti mi fa vedere lui che prende per mano e fanno un ballo questa è la chiusura della o bene ci vediamo tra otto mesi se vorrà come già capitato si farà avanti all'interno di un'altra sessione cioè una di voi dove dirà ti ricordi quella persona sta entrando insieme a tutti i vari parenti chiamati chiamiamoli comunque lo salutiamo non va nel portale aureo perché è troppo presto chiamiamo tutti i parenti già chiamati se sono già entrati o che di tutte le generazioni di tutte le linee temporali di francesca in particolar modo i nonni e lo zio già chiamati vediamo se escono dal portale aureo vanno ex nuovo perché le sessioni di francesca sono un po vecchie portale aureo non ricordo ma sicuramente nella prima non c'era nella seconda non so no vero c'era già la sensazione che mi dà è di grande confidenza da parte di francesca di fare questa azione lei in prima persona anche forse attraverso questa vita precedente in cui lavorava nel cimitero è proprio come se riuscisse a far fluire così queste anime lei tranquillamente con il suo intento lo ha già fatto quindi sì e non so diversi bimbi ecco per esempio mi vengono dei bimbi che erano deceduti tipo in strutture coercitive elena sì sì se passiamo 256 ma è come se lei si volesse godere questo momento perché è come se fosse una sfilata a cui lei spettatrice di cui le spettatrice e vedo che ogni tanto coglie dei particolari di tutti i suoi antenati che entrano tutti nel portale aureo e questi particolari lì è come se di memorizzato come se riprendesse e ritenesse per sé come se crescessero la sua consapevolezza e le informazioni ok lo chiudiamo e andiamo subito con francesca al cluster francesca si può triplicare se vuole e andare contemporaneamente a cluster all'avatar e nel fondale dell'oceano nei primi due casi voglio quello che non le interessa nel terzo prende quello che sta cercando è è è è è è è bellissimo perché mentre mandava tutti i suoi contratti del cluster nel portale definitivo e anche l'avatar ok e quindi tutto poi era libero e tutto colpo quello che c'era dei fondali marini venuto a galla tutta l'acqua non è scesa e si è praticamente posizionato al posto nel cluster e dove c'è l'avatar e quella mega conchiglia di perla color a perla si è diffusa sia nel cluster che a posto dell'avatar un'immagine molto simile saltato all'occhio che il cluster c'era tipo un libro di freud superato e questa conchiglia io l'ho vista come una ninfea una ninfea che è andata appunto ad occupare tutto lo spazio però esattamente con questa forma no poi molto bianca per l'escente con tre sezioni o tre petali o anche di più re allora questa qui adesso ne ha 5 ok bene monica l'essere verde l'uomo del tempo il ricordo del secondo universo e quello che ha visto elena ci sono ancora commentità eteriche le mentali no no decisamente no pena gli impianti no 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 elena bassa qualità il progetto o come l'avevi visto tu no non c'è più bene elena se ti dico atomo cosa mi risponde nuvola della creazione la sua direzione e ti dico atomo si infinite potenzialità mi fa vedere sia sotto che sopra elena se monica se ti dico unghie adesso viene keratina luminosa è come se stabilisse un dialogo adesso mi fa vedere non so con i semi di lino no come se stabilisse un dialogo con delle sostanze naturali che proprio per il fatto di essere naturali vanno a contrastare ciò che naturale non è elena se mi viene proprio femminile espressione della femminilità quindi contrastare proprio anzi le sue unghie curate e mostrate ok che contrastano questo circolo di danni di danneggiamento ecco nuova frequenza elena e poi monica 381 miliardi monica circa si consapevolezza monica 204 sì 213 anima elena 69 ok monica se diverso interviene vite elena 971 cervello 9.7 capacità medianica più alla portata di francesca creato mi viene creazione del campo magnetico verbale proprio quasi come se l'eco il coscientemente dicendo delle parole in una certa frequenta sequenza creasse proprio una frequenza elettromagnetica del campo durante il suo lavoro che arriva direttamente a parlare all'anima della persona che ha davanti grande suscettibilità ipnotica adesso è 85 per cento monica messaggio di francesca al figlio e io e te partiamo attraverso il cuore al compagno è come se stesse un po scherzando no vieni qua sciocchino c'è complicità c'è gioco stesse due domande elena sì col compagno come se facessero una partita di tennis ma invece che la pallina e la racchetta sono proprio colpi d'amore mi viene da dire proprio e ogni volta che arriva il corpo dall'altra pa dall'altro c'è un sorriso che si espande sempre di più al figlio è come se ti dice adesso te lo metto io l'abito che vibra con te è come se gli mettersi un mantello e lei dice questo è il mio mantello dell'amore elena messaggio finale di francesca a se stessa dall'alto della sua vibrazione considerando i tre grandi tesori che ormai cosa io aggiungerei anche questo che non solo i tesori sono suoi ma allora anche tutto l'oceano tutta l'acqua tutti i fondali tutta questa costruzione finta e virtuale di questo mondo che se le vuole può essere meraviglioso anche la ferita del non amato e del non visto è un gioco e da una costruzione è come se lei prendesse tutto questo plastico di cose di sentimenti di emozioni e con le braccia perdono e chiudesse come una cartina dicendo vabbè abbiamo giocato il gioco è finito a se stessa dici la tua creatività la creatività si consapevolizza trasparendo dal dentro al fuori monica stessa domanda messaggio finale io mi vedo in tutta la mia meraviglia e vedo tutto quanto il gioco come vedi francesca e con i capelli sciolti intanto un po di scollatura forse molto femminile come la vedi elena leggera leggera che frutto leggera e ilare divertita allegra quasi come se percepisse già la diversità della vibrazione libera che prima era quasi come se fosse limitata e se ne stupisce di non essersi accorta prima bene lasciamo andare anche noi sul nostro battello i nostri cucci se volete io lo faccio sì e abbiamo finito disconnettetevi da tutti e tutti